Musica Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho il piacere di ospitare quest'oggi un azzurro della Nazionale Italiana di Calcio Amputati, Ivan Martucci. Buonasera Ivan. Buonasera Claudia. È un grosso piacere averti ospite. Siamo grandi amici della vostra Nazionale. Da tempo conosciamo Gianni Sasso, così come Francesco Messorio, il vostro capitane. Ospiti spesso qui a Livigno da quest'anno nella Rosa Nazionale. Ci sei anche tu, Ivan. Un approccio a questo sport incominciato non da molto tempo in seguito ad un incidente molto recente che ti ha cambiato ovviamente la vita. Esatto, Katia. Io ho avuto l'incidente il 17 giugno del 2017. Un incidente in moto che mi ha portato via la gamba sinistra e diciamo mi ha stravolto un po' la vita. Ma questo non mi ha affermato. Quattro mesi dopo l'incidente ero lì sulle stampelle a correre, a riprovare, a giocare, a fare quello che ho sempre voluto fare. Anche perché è la mia passione. Io tramite i social e tramite Emiliano Gronchi, che è il preparatore dei portieri, sono venuto a conoscenza di questa Nazionale. Nel dicembre sono andato al primo raduno dove ho visto gli altri giocare e fare una partita dimostrativa dove sono rimasto veramente estasiato da questa situazione perché vedevo loro che correvano così forte, che riuscivano comunque alla fine a giocare quasi normalmente. La disabilità non esisteva lì sul campo. E lì mi sono dato un obiettivo perché penso che nella vita ognuno di noi deve darsi un obiettivo ed è quello di rinascere. Il mio è una rinascita. La mia è una rinascita perché dopo quello che mi è successo pensavo che tutto fosse finito ovviamente. Però grazie a questo sport, a tutti i compagni di squadra che ci sono e che mi stanno vicino, io ora mi sto giocando un posto per andare ai mondiali. Addirittura. Ivan, insomma, una giornata ovviamente indimenticabile quella dell'incidente. Tu tra l'altro eri, sei ancora un parà della folgore, quindi la tua vita era quella, era quella del parà. Quindi ti sei ritrovato sul letto d'ospedale, ti hanno dato questa notizia che la gamba avrebbe dovuto essere poi amputata. Ti è caduto ovviamente il mondo addosso. Come hai reagito lì per lì? Allora, ovviamente non posso negare che all'inizio per me è stato tragico. Ovviamente perché i miei pensieri andavano alla mia famiglia, a tutti quelli che mi stavano attorno e soprattutto a tutti i sacrifici che avevo fatto per diventare un parà. Perché può sembrare facile ma vi assicuro che non lo è. Ho dovuto affrontare diverse difficoltà, diversi addestramenti molto duri, molto molto duri. Ed è tuttora la cosa che per me ha avuto più peso. La rinuncia più grossa. La sento di più. È che però per me resterà sempre il mio punto di forza perché l'esercito mi ha dato una mentalità. Mi ha dato la forza di rialzarmi, di non mollare mai, cosa che mi sono tatuato anche, non mollare mai. Perché da una caduta si vede la persona quando si riesce sicuramente ad alzare, è più forte di prima. Io credo che in questo momento non ti nego che mi sento più forte di prima. E si vede e ce lo trasmetti anche. E di questo ti ringraziamo. Ivan, tu ti sei trasferito da un piccolo paesino vicino a Napoli, appunto a Livorno, per coltivare il tuo sogno del parà. Quindi sei stato sradicato dalla tua famiglia, dalla tua campagna, dai tuoi amici e tutto quanto, perché volevi assolutamente inseguire questo sogno. Ci racconti un po' della tua vita? Esatto. Io sono nato il 25 aprile del 1991 in provincia di Napoli. Ho vissuto fino a 18 anni, 19 anni in Giuliano e in Campania, che è una provincia sempre di Napoli. Mi sono arruolato appena diplomato, appena finito il liceo scientifico. Mi sono arruolato, i primi tre mesi sono stato a Capua, perché è il preaddestramento. Dopo i tre mesi ho avuto la destinazione a Livorno, perché ho scelto di andare nei paragaudisti da volontario e ne sono fiero. E dal 2011 io ero stanziato lì a Livorno, dove ci sono rimasto finché non ho fatto l'incidente. Sradicato dalla mia città è vero, però è sempre stato quello che io desideravo. E quindi mi sentivo bene, perché sapevo che stavo facendo quello che mi piaceva. Sicuramente non è facile vivere in un'altra città da solo, dove non hai famiglia, dove non hai parenti, dove non hai un appoggio, dove l'unica cosa che hai è la caserma. Quella è stata la mia casa per tutto questo tempo, dove ho dei ricordi bellissimi, dove ho ancora tuttora i colleghi che mi sono vicino e che mi ci vedo ancora. Un esercito che comunque ti è stato vicino? Sì, devo essere sincero, in un primo momento ho avuto sia dall'ospedale che anche dopo l'ospedale l'appoggio totale di tutti i comandanti, di tutti i miei colleghi a tutti i livelli. Tuttora sono seguito da un sotto ufficiale che sta seguendo le mie pratiche, comunque si interessa in prima persona. Non mi sono mai sentito abbandonato, perché comunque la Folgore è una grande famiglia, ed è sempre stato questo e ci hanno sempre insegnato questo. Anche se la mia strada per ragioni burocratiche si dovrà interrompere e quindi dovrò essere congedato, io saprò che la mia seconda famiglia è la Folgore. Beh, sei molto carino Ivana, anche perché accennavamo a microfoni spenti, ti si potrebbe aprire una strada d'ufficio. Ovviamente non potrai più essere sul campo, però l'ufficio della Folgore potrebbe essere la tua seconda casa, però non è così facile. E tu riesci ancora a spendere queste parole bellissime, quando magari un po' di rabbia ci potrebbe stare. Sì, in fin dei conti la colpa non è della Folgore, la colpa non la posso nemmeno attribuire a me, è la burocrazia. Purtroppo il mio incidente è avvenuto al di fuori dell'ambito lavorativo, quindi è più difficile ricollocare una persona, soprattutto essendo statale, in un posto civile. Anche se io non perdo le speranze, anche se non dovesse essere il posto civile nella Folgore, io credo che qualcosa si trova sempre, quindi non si perdono mai le speranze. Beh, te lo auguriamo davvero di cuore, nel frattempo hai trovato un'altra famiglia nel mondo del calcio amputati. Come ti sei avvicinato, ma che effetto fa a essere parte di questa famiglia, tanto più che nel mese di ottobre incomincerà il campionato del mondo e tu ad un anno da questo tuo grave incidente potresti far parte della nazionale? Sì, la mia gioia più grande è questa, di essere tenuto in considerazione per questo campionato del mondo. Io veramente in questa nazionale ho trovato un'altra famiglia, è vero, si può definire veramente un'altra famiglia, perché dal primo momento che sono riuscito ad entrarci, che mi sono tesserato, che ho calciato le prime volte male, che ho avuto i miei problemi, le mie cose, tutti mi sono stati vicino, mai nessuno che mi ha criticato, ho avuto solo consigli che io ho fatto tesoro e che tuttora faccio tesoro e che faccio in modo di mandare avanti quella che per ora spero la mia attività principale, perché essere in nazionale è una cosa stupenda, indossare la maglia azzurra penso che è il sogno di chiunque, esserci arrivato dopo il calvario che ho avuto e solo dopo un anno per me è una vittoria, comunque vada che io faccia il mondiale o meno. Tu ovviamente giocavi già a calcio prima? Sì, ho giocato a calcio sempre a livello dilettantistico, quando ero lì a Ponte d'Era in un primo momento nella Ghizzanese, poi fino al momento dell'incidente nel Peccioli, ero centrocampista esterno destro e spero di lasciare quello che è il mio ruolo qui nella nazionale, anche se è dura, perché il centrocampista è quello che corre di più, quindi sto valutando anche di retrocedere un attimino come difensore perché anche lì abbiamo fatto alcune partitelle tattiche e mi sono trovato veramente bene. Ovviamente il calcio amputato non può essere paragonato totalmente a un calcio normodotato, quindi le mie doti che magari avevo da normodotato non possono essere paragonate allo stesso, quindi magari la mia grinta, quella che mettevo sempre in campo, la posso dare in difesa. Qual è la difficoltà maggiore che hai incontrato in questo approccio con il calcio amputato? La difficoltà maggiore è stata quella di abituarsi a un certo ritmo di corsa, perché sono partito, ti dico la verità Katia, un pochino sconfortato perché vedevo gli altri e vedevo gli altri correre fortissimo e io giustamente appena uscito dall'ospedale non riuscivo nemmeno a camminare, usavo ancora un po' la carrozzina, sono stato anche fortunato che sempre Emiliano Cronchi, il preparatore dei portieri, mi ha affiancato a un preparatore atletico molto valido, Gioele Salvadori, che tuttora lui mi segue due volte al giorno per tutti i giorni e dico tutti i giorni, ha cinque mesi, sei mesi a questa parte e ha fatto un lavoro strepitoso con me, perché se sono qui con Gianni Sasso ad allenarmi in altura è perché ho fatto dei miglioramenti tali che lui ha valutato che io meritavo di essere qui, quindi la mia difficoltà è stata di imparare a correre, poi il resto viene da sì, devi giocare, per imparare a giocare, cioè per giocare a pallone devi giocare certo, correre ovviamente e poi nello stesso tempo calciare calciare ovviamente, però da un lato sono stato fortunato perché mi è rimasto il piede che avevo prima, il destro, invece ci sono alcuni nostri colleghi di squadra che purtroppo gli hanno amputato la gamba primaria e quindi la difficoltà è maggiore questi allenamenti sono fatti per migliorare, io prendo il buono da tutto, non butto mai via nulla, anche un passaggio deve essere fatto in modo da impararlo e che quello dopo deve essere fatto meglio, quindi la difficoltà c'è ed è giusto che ci sia, ma va superata. Anche perché tu avendo la protesi non cammini abituamente con le stampelle, tu cammini autonomamente? Sì, sì, io deambulo normalmente, utilizzo le stampelle per gli allenamenti e quindi comunque ho una mia autonomia quasi al 100%, anche io ho le mie difficoltà ma non è un problema. No, questo per dire che a differenza di tanti tuoi colleghi che invece devono usare per forza le stampelle, per te è un optional ma che non ti è abituale il gesto, quindi maggiormente difficoltoso nel tuo caso. Sei un parà della folgre, scusa, volevo dirti questa cosa, quindi abituato ai sacrifici, alla fatica e anche veramente a stringere i denti in ogni occasione, però insomma questo movimento, questa corsa, questa forza che penso dobbiate avere nelle spalle, nelle braccia, a me vengono in mente i cagli alle mani dovendo impugnare sempre le visciche, le stampelle, però si supera, si stringe i denti e si va avanti. Esatto, mentre lo dicevi mi venivano un po' i brividi perché è tutto quello, tutta la forza che devi mettere sulle stampelle è veramente tanta, io penso che la difficoltà e la forza maggiore deve averle nelle spalle, nei tricipiti, ovviamente le mani dopo un po' ti si spaccano perché comunque una partita regolamentare è due ai 50 minuti, si può ben immaginare che dopo 50 minuti che corri sulle stampelle, dopo tutti gli allenamenti che hai fatto, le mani, le braccia, le spalle ti facciano malissimo, però quando sei lì nel campo corri. Non ci pensi e corri. Non ci pensi, non ci pensi. Sei un tifoso di calcio? Sì, tifosissimo del Napoli. Ah beh, che domanda ti faccio, certo. Tifosissimo del Napoli. Hai ancora occasione di seguirla? Sì, sì, io la seguo ovviamente non nelle trasferte abitualmente, però la seguo sempre in tv e tifo spiegatamente per il Napoli. Beh, quest'anno poi ad un passo dallo scudetto fino a un certo punto, dai, è un sogno che ti sa mai. Sì. Ivanna, che cosa ti hanno detto i tuoi amici che ti hanno ritrovato da un giorno all'altro nella nazionale di calcio italiana? Sì, è stata per loro una gioia immensa perché hanno visto in me un riscatto. Tuttora ho dei messaggi anche da colleghi che difficilmente ci parlavamo oppure non eravamo tanto in contatto che per loro sono un esempio. Questa cosa mi riempie il cuore, anche ora dirtela. Si vede, si vede ma ce lo trasmetti pure. Essere un esempio non è facile, cioè secondo me una persona che ti dice per me sei un esempio è una vittoria estrema. Io spero che da quello che io trasmetto e da quello che io faccio di aiutare anche qualcuno che è in difficoltà, che magari si sente il mondo crollare addosso oppure i suoi problemi sono infiniti. Non bisogna mai pensare a questo. Bisogna sempre andare avanti e provare a realzarsi. Penso che la dimostrazione siamo tutti noi. Tutti noi che siamo lì sulle stambelle a giocare a calcio. Assolutamente. In questo anno così particolare c'è stata una giornata o un episodio che più sia rimasto nel cuore? Un incontro, un qualche cosa? La cosa che porto più ora nel cuore è la mia prima partita internazionale che è stata contro la Scozia. È stata il mese scorso. Mi sono meravigliato che sono partito titolare dal primo minuto e sono rimasto contentissimo. Anche allo stesso tempo ero teso, ma tesissimo proprio non riuscivo quasi a parlare dalla tensione. Tutti i miei amici dicevano di stare calmo, che andava tutto bene, che era tutto perfetto. Devo dire la verità è andata benissimo per noi. Abbiamo vinto 8 a 0. Dopo 5 minuti già eravamo 5 a 0, quindi mi sono rilassato. Ho avuto i complimenti da entrambi i mister, quindi per me quella è la giornata per ora da incorniciare. Quando sapremo? Quando saprai se sarai della rosa del mondiale? Le convocazioni verranno fatte ad agosto, quindi poi ovviamente se sarò dei 15 del Messico, a settembre ritornerò qui a Livigno, in questa splendida città, in queste splendide strutture, ad allenarmi con una gioia infinita. Ivan, la tua famiglia in tutto questo tuo viaggio, che ruolo ha avuto? La mia famiglia subito, dal primo momento hanno fatto bagagli da Napoli, sono venuti lì a Firenze dove ero in ospedale. Sono stati con me quattro mesi, tutti e quattro mesi, sia i due dell'ospedale che i due post ospedale. Li ho ospitati ovviamente a casa mia, lì a Ponte d'Era. Una nota negativa è stata il fatto che, giustamente essendo stati molto lontani dal lavoro quattro mesi, hanno perso entrambi il lavoro. Però grazie a mio zio che è un'azienda a Torino, sono riusciti a ritrovarne un altro e sentendoli ora sono più felici di prima, perché hanno trovato un ambiente stupendo, un lavoro che non è così massacrante rispetto a quello che avevano prima, quindi sono contentissimo. Quindi si sono trasferiti a Torino i tuoi genitori? Si sono trasferiti a Torino. Addirittura? Sì. Hai sorelle o fratelli? Sì, ne ho uno più piccolo, Ciro, che ha 20 anni. Lui sta interprendendo la carriera di tatuatore, gli sta riuscendo anche bene, infatti tra poco mi farò fare qualche tatuaggio. e niente, per ora, per come si erano messe le cose pensavo peggio, però si è risolto tutto al meglio. E quindi adesso dove, ora dove vivi? Io vivo sempre a Pontedera, a casa lì a Torino, a Torino, e tutto procede. Per ora tutto procede. Alla grande. Ivana, speriamo di cuore, veramente lo dico, di rivederci ad agosto, vuol dire che il tuo sogno si starà realizzando. Io ti ringrazio per questa tua positività che ci hai trasmesso, questa gioia di vivere e veramente questa forza che hai. Ti ringrazio. Grazie a te, Katia. Arrivederci a tutti. È tutto per questa sera, grazie per la cortesia e attenzione. Vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.